Il Comune estende la rete wireless nell'ambito di un progetto avviato dalla giunta Favilla poco prima della scadenza del mandato. Grazie ad un nuovo intervento di Gesam Energia sono stati installati due ulteriori punti wifi lungo il percorso turistico stabilito. Risultano così coperte anche le zone di Via Roma, tra Piazza San Michele e Piazza Bernardini e Via Fillungo, tra Via Roma e Via San Giorgio. I due punti hotspot vanno a integrare la copertura wireless cittadina, già ampiamente garantita dalla rete free internet wifi, installata da una serie di aziende private, il tutto senza gravi per le casse comunali. La rete privata è costituita da oltre 15 hotspot che permettono la connessione gratuita a tutti gli utenti e garantiscono al momento una copertura quasi integrale a vantaggio dei turisti e della cittadinanza. Free internet wifi si estende con tantissimi altri hotspot sui comuni della Piana Lucchese, con lo slogan Liberi di Navigare. A free internet wifi si accede semplicemente utilizzando i tradizionali dispositivi come computer portatili, smartphone e tablet. Il progetto dell'amministrazione comunale prevede che l'intera struttura di rete utilizzi, quale dorsale principale, la fibra ottica di proprietà del comune, attualmente a servizio delle videocamere di sorveglianza, integrandola con tratti di rete wireless, anche questi in parte già esistenti ed utilizzati per l'impianto di videosorveglianza, con velocità fino a 42 MB. I nuovi hotspot si aggiungono a quelli già attivi di Piazza San Michele, Piazza Napoleone e Piazza Del Giglio.